Allora, scusate, io ho fatto tutta questa cosa perché lei non lo sa, però io a questo punto ho voluto fare tutto questo perché gli voglio dedicare una cosa da padre, figlio, non è più Daniele Silvestri, ma è da papà a sua figlia, ok? Che stai qua vicino a me? Pronto? Io te la dedico, te non sei niente, non mi ricordo mai come inizia, ci ho messo ragazzi, adesso che sono qua ho un dovere del papà, dichiarare il mio amore all'unica donna che ho nel cuore, donna, donna, lo so che non lo sei, ma ben presto lo sarai, vorrei fermare il tempo per starti sempre a fianco, ma la bambina cresce e presto volerà lontano da papà, vorrei fermare il tempo per abbracciarti, coccolarti, consolarti, asciugare le lacrime che scendono sul tuo viso, che ombrano il tuo sorriso, vorrei fermare il tempo e che tu sei l'essenza della mia esistenza. Vorrei fermare il tempo, ma questo non si può, io voglio per te il meglio che c'è, e quando volerai ricordati, non accontentarti mai, vola più in alto che puoi e l'importante che tu sia felice bambina mia. Signore e signori, direi di fare un bellissimo applauso a Yasmin, a tuo papà, a tuo papà.